Buon sabato, adesso come al solito metto su Twitter e poi ci ragioniamo su ok bene oh farietto buon pomeriggio allora nonostante il sabato pomeriggio vedo che stiamo arrivando abbastanza velocemente ai 500 bene bene breve ciao serena benissimo 500 ok allora a me oggettivamente un po' dispiace perché voi le basi tanti di voi quantomeno le basi le avete già ascoltate vorreste ascoltare qualcosa di più allora non vi abbandono sono assolutamente convinto sul famoso la mia famoso modo di dire che i primi saranno i primi quindi non vi preoccupate però mi pare che sia necessario spiegare qualcosa all'inizio perché vedo una costante continua infinita trascimante catena di cretinate ok che sono più o meno tutte basate sul principio di prendiamo i soldi del mess così facciamo gli ospedali prendiamo i soldi del recovery fund così facciamo l'ospedale prendiamo i soldi di non si sa bene chi così facciamo sfamiamo i bambini curiamo i poveretti e così questo tipo ok non funziona così non funziona così vediamo ho fatto i disegnini ve lo dico a voce così almeno magari qualcuno magari volenteroso ci mette fa una clip o similari e vediamo di spiegarla in modo un pochettino più lineare ok come funziona il finanziamento di uno stato lo stato fissa prima il deficit che vuol fare vale a dire fissa prima la sua capacità di indebitamento lo fa con la famosa legge di bilancio queste sono tutte cretinate che ci arrivano poi dal pareggio di bilancio dal semestre europeo e così questo tipo bene però di base funziona così non è che io trovo lo stato trovo i soldi per strada oh che bello ho trovato i soldi per strada adesso li spendo se anche trovo i soldi per strada non li può spendere ok perché in realtà ha messo a budget già prima a bilancio quanto può spendere cosa hanno fatto i nostri brillanti governanti quando hanno preso la decisione di chiudere tutto e guardate io non dichiaro non mi metto a discutere se fosse giusta sbagliata non lo so cioè non mi piace entrare nella categoria del se vede vista voi sapete che io avevo una posizione più sfumata ma non è quello su cui io perché vedevo gli svizzeri che facevano scelte diverse e mi veniva il sospetto che magari forse uno svizzero che ha l'idea fissa della sicurezza del suo paese fosse un po' più preparato rispetto a Conte Casalino la Castelli e così così va bene ma non no cioè non mi interessa quell'argomento lì si è preso una scelta e va bene si è fatto una scelta quella scelta va benissimo dopo sono capaci tutti di dire che ah l'ospedale hai fatto l'ospedale adesso è vuoto cretino volevi che fosse pieno cioè evidentemente evidentemente lo facevi perché non sapevi quanti malati ti sarebbero arrivati in casa no cioè no adesso quindi ti dispiace che è vuoto l'ospedale vabbè comunque lasciamo perdere tu sei un governo stai prendendo una decisione molto seria vale a dire prendi e chiudi tutte le attività dopo che decidi di chiudere le attività e ripeto non sto discutendo se è giusto o sbagliata questa decisione ma un'altra ti doveva essere necessaria e su questo sì che posso dire che invece subito dall'inizio ho detto la mia vale a dire quanto ti costa prendere questa decisione in termini di deficit perché se tu chiudi tutte le imprese è abbastanza tutti chiudi tutti in casa è abbastanza evidente che non avrai tasse ed è abbastanza evidente che dovrai pensare a più spese perché se la gente se tutte le imprese sono chiuse le tasse non te le pagano se le spese saranno aggiuntive perché dovrai pagare cassa integrazione per tutte le imprese chiuse perché a parte oltre dubito che tu possa essere così cretino anche se guardando qualcuno il dubbio ti viene di pensare che se tu chiudi una fabbrica è l'imprenditore che può pagare o l'albergatore o fabbrica o albergo o ristorante o studio professionale insomma c'è un'attività economica tu chiudi un'attività economica e puoi pensare che sia l'imprenditore che continua a pagare gli stipendi senza avere i ricavi no? un po' improbabile no? cioè nel senso io tolgo i ricavi a un'impresa ma gli mantengo i costi lo faccio per decreto e andrà molto lontano perché giustamente uno dice sì certo aspetta che la tengo aperta l'impresa se non ho più ricavi e invece mi devo sopportare i costi chiudo la saracinesca bene dato che non puoi pensare di essere così cretino vero che non sei così cretino allora dovrai pensare che tu a fronte di meno tasse avrai più spese se hai poche entrate vale a dire le tasse e se hai tante uscite vale a dire le spese si cresce il cresce il deficit ok? quindi questo deficit è quello che tu devi mettere a bilancio ma non solo per mettere una pezza a questa situazione hai bisogno di mettere a bilancio il deficit anche se vuoi incentivare o aiutare la ripresa ma al momento supponiamo che ti interessa soltanto guarda pagare qualcosa a tutti con la cassa integrazione devi avere il deficit pronto all'inizio questi geni del governo se ben vi ricordate avevano messo a budget 3 miliardi e 6 spendiamo 3 miliardi e 6 cosa? allora un punto di pil sono 18 miliardi se tu chiudi lo stato ma anche supponendo di farlo per poco ma cosa credi? cioè cosa credi? che te la cavi con 3 miliardi e 6 te la cavi un giorno con 3 miliardi e 6 e noi dicevamo guardate che teniamo a parlare almeno di 50 probabilmente 100 per iniziare intanto aspetti 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 vai a fare le riunioni in Europa parla del mess parla degli strumenti che ci vogliono e e la sure e la bay e ancora il mess e non il bes e vogliamo gli euro bond e intanto nulla arriva alla gente e intanto il conto aumenta alla fine arrivi con il cure Italia grande deficit 25 miliardi quando noi gli dicevamo quando loro dicevano 3,6 miliardi noi diciamo voi siete fuori ce ne vogliono almeno 50 parole in libertà sconsiderati sono cose che non hanno senso è facile spararla e cose di questo tipo 25 e noi non servono 25 sono pochi sono pochissimi servono solo per iniziare cosa dici di quali intanto approvi il cure Italia perché poi dopo che tu hai messo a budget la tua cifra e poi come la devi spendere devi indicarlo ci sono dei modi più veloci e dei modi più lenti puoi immaginarti 600 euro e allora devi dire all'Inps come quanto puoi immaginarti la casa integrazione allora allora intanto passa il tempo intanto la gente non riceve soldi intanto l'economia comincia comincia a soffrire intanto tu fai queste belle riunioni il recovery fund adesso forse lo chiameremo e aspetta che è un po' ancora il mess aspetta ancora un po' l'euro bond e così questo tipo bene intanto passa il tempo e tu non è ancora approvato il deficit alla fine approvi il deficit del curitalia 25 miliardi ok prima si approva il deficit dopo si fa la legge per spenderlo una volta che tu hai approvato il deficit di 25 miliardi hai fatta anche la legge appunto il curitalia su come spenderli questi soldi primariamente vi ricordate la prima parte delle casse integrazioni e 600 euro stringendo il concetto a quel punto il tesoro deve pagare come fa a pagare il tesoro e dove ritrova i soldi e dove trova i soldi non c'entra nulla con il deficit che tu hai programmato il deficit programmato che dice quanti soldi ho bisogno e la legge che lo spende in quel caso il decreto curitalia che decide come spenderlo vanno su canali del tutto separati rispetto ai mezzi di finanziamento i mezzi di finanziamento di questo deficit aggiuntivo quindi di questi soldi in più che lo stato deve spendere abbiamo visto che sono stati attuati emettendo titoli di stato perché fino adesso di tutte le belle cose dell'unione europea vale a dire il sure la bay il mess il record refund la cifra è zero quindi l'unione europea fino adesso ci ha dato zero la capiamo ci abbiamo parlato di tutte queste cose ma il finanziamento è stato il normale finanziamento di tutti gli stati si è deciso una cifra si sono emessi dei titoli di stato si sono raccolti dei soldi emettendo titoli di stato e questi soldi man mano vengono spesi male in ritardo in modo con i piedi come i 600 euro come la la cassa integrazione come le spese normali dello stato le pensioni che normalmente avevamo fatte gli stipendi dei poliziotti gli stipendi dei maestri e cose di questo tipo cioè le normali spese dei medici dei dottori degli infermieri ecco le normali spese dello stato stanno venendo pagate con quella parte di entrate fiscali che ancora ci sono e per quello che manca con il deficit vale a dire con soldi raccolti emettendo titoli di stato il pensiero se invece di fare così di raccoglierli con altri modi non 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 impatta nulla su quello che tu hai deciso di spendere ci arriviamo ci arriviamo quindi lo stato decide quanto spendere non è come la famiglia non funziona come la famiglia è il contrario lo stato decide quanto gli serve decide come spendere dopodiché si procura il denaro che eventualmente gli manca e quindi che non ha raccolto dalle tasse emettendo titoli di stato che è quello che abbiamo fatto peccato che non bastava ok non bastava e allora cosa succede altro deficit 55 miliardi e intanto eravamo chiusi da mesi da mesi chiusi da mesi il danno incredibile danno annullati tutti gli eventi annullate tutte le cose per il futuro annullato tutto quello che mancava quindi il danno si 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 prospettava enorme smisurato gigantesco gigantesco no adesso stiamo parlando di circa lo dice anche la banca d'italia 15% di pil quest'anno di 15% di pil se abbiamo detto che il pil è 18 miliardi capite che andiamo oltre i 200 in abbondanza quindi il fatto che con grandissimo ritardo tu arrivi con il decreto rilancio italia quello penoso che doveva essere il decreto aprile e che perché tu ci dovevi ficcare dentro i monopattini le tue cazzate i soldi per Bill Gates i soldi per l'autobus di Taranto i marescialli di non so che cosa cioè tutta una serie di puttanate tue le tue marchette del cavolo no più quelli di tutti quelli cassetti dei tuoi ministeri fino a fare 280 cazzo di articoli no bene dato che tu dovevi perdere tempo per scrivere questa cosa intanto il conto aumentava e tu però avevi ancora il budget di aprile di quello di quello che serviva no allora il budget di aprile era 55 miliardi quindi cosa hai fatto hai chiesto l'indebitamento aggiuntivo quindi il deficit aggiuntivo per 55 miliardi il Parlamento te l'ha votato hai fatto uscire il decreto rilancio che è quello che adesso ho io in commissione per la ratifica che ti dice come vengono spesi questi soldi in commissione possiamo vedere se per caso possiamo provare posto che ci sia l'accordo cosa non semplice di togliere un po' di soldi dal punto A e metterli nel punto B o viceversa ma il saldo è quello sono 55 miliardi ok quindi sulla base di quelli man mano che vengono pagati per esempio le ulteriori casse integrazioni per esempio il proseguimento dei 600 euro per esempio le detassazioni per che ne so il bonus vacanze che non vuole nessuno perché sono arrivati tutti quelli di federalberghi così hanno detto lasciate perdere forse non è esattamente lo strumento lo strumento adatto comunque questi soldi in più QB per 55 miliardi per un totale 55 miliardi adesso anche questi te li procuri emettendo titoli di stato esempio i famosi BTP Italia solo con quelli ne hai raccolti 20 ne potevi raccogliere anche di più volendo emetti degli altri titoli ci sono state delle altre delle altre aste in questa settimana l'asta bot l'asta BTP e così via bene continui a raccogliere questi soldi e poi con calma tranquillamente man mano che fai i decreti attuativi per spendere questi soldi li metti in circolazione ma capite che il fatto di aver emesso dei titoli di stato invece che fortunatamente prenderli dal messo non cambia nulla della natura delle decisioni che vengono prese a monte lo stato prima decide quanti soldi devi mettere in circolo dopo scegli se vuoi utilizzare gli strumenti che utilizzano tutti per procurarsi quel denaro vale a dire i titoli di stato oppure se vuoi prendere il messo se vuoi prendere il recovery fund o qualsiasi altra cazzata che stanno elaborando in unione europea ma prima devi dire tu cos'è il deficit e dopo una settimana di audizioni di categorie economiche in commissione bilancio di cui ovviamente non una riga è emersa sui giornali perché era meglio star lì a guardare e vedere che io dicevo a brusaferro di tirar su una mascherina o altre cose o le intercettazioni di palamara di cui vi ho parlato ieri o similari bene sui giornali nulla eppure ci hanno portato uno spaccato devastante di un'Italia che non ha soldi e di migliaia se non milioni di imprenditori che pur avendo magari aperto sono alcuni che non hanno proprio aperto per niente quindi quelli appunto quelli degli eventi quelli degli eventi programmati e similari dicono dato che noi il nostro business va di anno in anno quest'anno è facile far conto di quanto abbiamo perso 100% ok altri non sanno cosa succederà altri magari come i ristoranti hanno aperto solo per notare che i loro incassi adesso sono se va bene il 20 o il 30% rispetto a quello che era prima stessa roba per gli alberghi stessa roba per i negozi e così via bene a fronte di questa situazione ok cosa può fare lo Stato beh lo Stato invece di inseguire e ogni volta andare a cercare qualcosa deve muoversi in anticipo deve preparare un deficit molto superiore anche ai 55 miliardi indicati dal dal rilancio Italia e così questo tipo per avere i soldi da mettere in circolo perché quando finirà la cassa integrazione a giugno diventa un disastro chiaro quando finiscono le nove settimane di cassa integrazione è un po' improbabile che tutti questi milioni di lavoratori ritroveranno il loro posto di lavoro esattamente come prima ok spero che sia chiaro quindi ci vuole del denaro aggiuntivo e tu devi programmarlo prima il denaro aggiuntivo per poterlo mettere in circolo perché altrimenti starai facendo come adesso che continui a inseguire continui a correre continui a correre un'economia che peggiora sempre e continui a cercare di mettere dei buchi di riempire con il cucchiaino delle voragini che si stanno riempendo aiuta in questo frangente dire ah va bene allora adesso prenderemo i soldi del mess adesso prenderemo i soldi del recovery fund no secondo me fa solo girare i coglioni alla gente non devo dire le parole ma scusate ma se io sono uno che sta chiudendo un'attività se io sono un disoccupato se io sono uno che non so che comincia a dover pensare di andare alla Caritas per cercare di avere qualcosa da mangiare ma quando accendo al pomeriggio il il programma lì tipo come c'era l'altro volta oppure compro il fatto quotidiano e in copertina c'è Conte e la Merkel con i soldi che piovono tutti i giornali 170 miliardi gli euro miliardi finalmente la svolta dell'Europa mi sta merlino a cui io voglio voglio bene ma era era fantastica circonfusa da un alone europeista e questa con la voce stentoria proprio perché tremava addirittura e questa volta i soldi sono tanti 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 e intanto tu sei lì che devi andare alla Caritas ma gli si rirà bene i coglioni a uno di questi perché dice ma scusa 170 miliardi miliardi su miliardi e piovono i soldi e perché a me non è ancora arrivato niente e perché a me non è ancora arrivata la cassa integrazione e perché a me non è ancora arrivato i 600 euro e perché la mia impresa non dà esattamente dei segnali incoraggianti e mi dice adesso vediamo cosa succede fra un po' anche i soldi a fondo perduto se esistessero e non esistono ormai spero che sia chiaro che non esistono ma immaginiamo che esistano a un certo punto immaginiamo che c'è la Germania l'Austria l'Olanda ve lo vedete ve li vedete questi qui che dicono guarda ci abbiamo pensato diamo dei soldi all'Italia perché li vogliamo bene quindi prendiamo 50 miliardi dei nostri e glieli diamo all'Italia va bene se anche fosse così tu in ogni caso devi chiedere l'aumento del deficit devi farlo votare e devi fare una legge per spendere ma la differenza fra il fatto che ti arrivano dei soldi gratis cioè i propri famosi 50 miliardi a fondo perduto che io non li devo neanche più restituire e prenderli dal mercato è nulla perché in ogni caso si tratta di finanziamento io devo riuscire a fare il finanziamento di quello che mi serve me li danno gratis ottimo vorrà dire che a finanziamento metto i soldi gratis li devo prendere a prestito benissimo li devo prendere a prestito devo mettere dei titoli li prendo dal mese benissimo vorrà dire che li prenderò dal mese ma in ogni caso questo è un problema del mio finanziamento come dispendo devo deciderlo con largo anticipo invece no si aspetta ma si prende tranquilla mi spiace ma se uno poteva non immaginare o non sapere o non gestire le questioni relative sanitarie come andava a finire dal punto di vista economico lo sapevano e come non puoi pensare che chiudi uno stato e non fai deficit e non puoi pensare che non puoi mettere che non devi mettere in circolazione delle cifre enormi se vuoi mantenere se vuoi mantenere l'economia o aperte le imprese non l'hai fatto hai voluto aspettare hai voluto dedicarti alle tue bellissime le riunioni su l'eurogruppo e cose di questo tipo la responsabilità è tua quante dirette avete visto dove dicevo che bisognava fare così no perché se no adesso poi si svegliano tutti con il senno del poi non l'hai fatto né subisci le conseguenze non puoi più pensare di venire da me a dirmi che devo fare il responsabile basta è finita dubito proprio che in Parlamento si parlerà di responsabilità già ha cominciato a percepirne l'odore io sono lì io personalmente faccio presidente di commissione devo svolgere l'ordinato svolgersi dei lavori mi è parso di vedere che non c'è sto grande accordo fra le forze politiche mi dispiace no non mi dispiace perché prima o poi va detto che quello che è stato fatto dal punto di vista economico è criminale e non è dirlo ex post abbiamo detto sempre che ci volevano più soldi e se non li hai messi prima e li hai messi dopo non puoi dirmi che non c'erano perché e non puoi dirmi che hai dovuto aspettare che arrivassero i soldi dall'Europa perché fortunatamente anche un po' grazie al nostro intervento i soldi arrivati dal MES sono zero fortunatamente i soldi arrivati dal BEI e dal SHURE sono zero e i soldi arrivati dal Recovery Fund sono zero quindi tutti i soldi che abbiamo preso fino adesso li avremmo potuti avere anche prima bastava muoversi hai voluto fare solo 25 puoi farne altri 55 invece che farne subito 100 scelta tua i soldi c'erano perché nessun altro tipo di finanziamento rispetto al solito è stato effettuato e scusate io ve l'ho già spiegato in diretta la balla clamorosa del Recovery Fund ve la dico ancora una volta in modo piuttosto chiaro perché vedo calcoli smisurati conti decidiamo che cosa dice adesso vediamo cosa dice l'Olanda vediamo cosa dice Malta vediamo cosa dice Cipro quello che non va nel Recovery Fund è l'intermediazione da parte dell'Unione Europea è un mega mess noi ci mettiamo dei soldi se anche ce ne dessero di più di quelli che noi ci mettiamo il problema è che decidono loro che cosa fare se il mio stipendio è 1000 euro non è la stessa cosa se io decido come spendere quei 1000 euro oppure se ne do 500 a uno che me ne dà un valore di 510 ma di cose che piacciono a lui io stasera ho voglia di mangiare la pasta alla bottarga bene mi mangio la pasta alla bottarga se questo invece mi dà una pregiata pasta ai 4 formaggi che vale 5 euro in più rispetto alla mia pasta alla bottarga ma a me il formaggio non piace mi spiace non mi piace il formaggio non mi è mai piaciuto non sono allergico non sono intollerante non mi piace il formaggio mi spiace perché so che tante volte ci sono quando vado a visitare fattorie o cose di questo tipo ogni tanto c'è il fattore che mi dice prova questo formaggio che è buonissimo a me non piace quando mi fai provare il salame quando mi fai provare la coppa sono contentissimo ma il formaggio non mi piace bene se arriva uno dall'Unione Europea e dice ma che ti lamenti guarda ti ho portato una bella pasta e 4 formaggi dal ristorante da fritz no che vale di più rispetto alla cosa quindi tu hai un saldonetto no cioè la tua pasta la bottarga costava 10 euro la mia pasta e 4 formaggi che ti do vale 15 quindi sei più 5 felice contento no così come non sono felice e contento dei soldi che io do all'Europa e che mi rientrano sotto forma di programmi europei perché fanno cacare questi programmi europei perché ogni volta non funzionano perché c'è un bando alto così perché bisogna e alla fine c'è la gente che si deve inventare dei lavori che non servono chiunque si metta a trafficare in bandi europei lo sa si deve inventare dei lavori che non servono pur di riuscire a avere il bando europeo se no va sprecato da una parte c'è uno che muore di fame dall'altra parte c'è uno che si sta con delle società di consulenti e così via che che si va a immaginare un progetto di somma soverchia in utilità che però magari avrà il fondo europeo e quello io lo conto come cosa positiva i fondi europei sono delle puttanate se io sbaglio sbaglio di mio tante cose fatte con i fondi italiani sono schifose sì io vengo da Como una ce la ricordiamo in modo particolare anche lì c'erano ficcati dentro comunque i soldi europei le paratie ecco c'è stata la malapolitica era del centro-destra sì era del centro-destra hanno fatto le paratie era una cazzata sì sì giustamente gli elettori hanno punito quella giunta hanno mandato una di sinistra dopodiché la giunta di sinistra ha fatto peggio siamo arrivati noi adesso in consiglio comunale e se questa nuova giunta farà bene alla prossima volta che si vota i cittadini da premier anno altrimenti no ma almeno avete la possibilità voi di decidere altrimenti far fare agli altri le cose che piacciono a loro con i soldi nostri e dicendo beh però guarda i calcoli della Silvia Merler oh guarda ci danno un pochettino di più rispetto a quello che diciamo ci gli mettiamo ma aumentiamola questa quantità aumentiamo enormemente tutto il bilancio guarda quelli probabilmente ti dicono di sì se tu vuoi fare lo sbilancio dove tu prendi e gli dai di là del piatto invece dagli 100 gli dai 1000 e loro decidono di fare 1010 ma io sono convinto che ci stanno ma ci starei anch'io guarda che meraviglia io mi metto lì al centro ricevo soldi da tutti e poi decido come sminestrare ora io posso capire che qualcuno che viene da evidentemente un sottobosco assistenzialista assistenziato o cose di questo tipo dove i trasferimenti interni dello Stato erano l'unica fonte di ricchezza allora bisognava essere dritti e scafati per vedere di riuscire ad avere qualcosa in più ma non voglio diventare il meridione dell'Europa anche perché la Germania non è la Lombardia dell'Europa i conti dell'Italia sono messi in sono messi in società quante volte ve l'ho spiegato quante volte ve l'ho detto che il prosperare del meridione sarebbe stato anche il vantaggio della Lombardia quante volte vi ho spiegato gli effetti della moneta unica quindi il fatto che in una maniera o nell'altra i trasferimenti fiscali erano compensati dal fatto che la lira era svalutata per il tessuto industriale della Lombardia e quindi il Lombardo piuttosto che il Veneto piuttosto che il Piemontese ci guadagnava ad avere la lira e quindi anche i trasferimenti interni si giustificavano a quella non gliene frega niente non ragionano in termini di uno stato ragionano in termini che dovete morire vi ho rimesso la poesia di Carducci pensate perché è sempre così sempre lì in ginocchio ad aspettare ad aspettare che arrivi che arrivi il tedesco dandogli il bacino sicuri che se si è proni se si è condiscendenti lui avrà avrà pietà di noi portagli gli standardi portagli i doni portagli portagli loro il risultato è che lui arriva e fa piazza pulita prende abbatte tutte le tue torri abbatte tutto non rimane pietra su pieto e allora a un certo punto poi si deve alzare un Alberto da Giussano e deve farle notare queste cose non esiste Alberto Giussano sì ma ci sarà stato qualcuno che si chiami quello che vuole Guido dall'Andriano Cecco da o Pasquale Borghi detto Pasqualin della Barona mio mio avvo che a un certo punto ma va bene Alberto da Giussano per far capire di che si parla a un certo punto arriva guarda tutti in faccia e dice ma ancora state a pensare di inginocchiarvi davanti al tedesco sperando che questo vi salvi oppure per una volta a testa alta col sole di maggio che ti che ti arriva negli occhi puoi cominciare a decidere che questa patria per una volta per una volta può e deve fare da sola pensiamoci grazie a tutti